Avendo visto il principio di funzionamento del motore asincrono trifase, passiamo adesso a vedere il suo comportamento dal punto di vista elettrico. Quindi, cosa succede a un circuito elettrico quando noi alimentiamo un motore asincrono trifase. Per fare questo abbiamo la necessità di cercare un circuito equivalente che rappresenti il funzionamento del motore. Essendo il motore una macchina, in questo caso trifase, di tipo simmetrico ed equilibrato come costruzione, possiamo studiarne il comportamento di una fase per poi estendere lo stesso comportamento alle altre due, ottenendo comportamenti analoghi. Partiamo quindi dall'immaginare il nostro motore asincrono trifase con il rotore fermo e con gli avvolgimenti rotorici aperti. Questa è una condizione di funzionamento non usuale, nel senso che gli avvolgimenti rotorici o la gabbia di scogliattolo, ancora di più, sono sempre chiusi in cortocircuito. Però, per iniziare lo studio del circuito equivalente, facciamo l'ipotesi di avere gli avvolgimenti rotorici o le sbarre della gabbia di scogliattolo aperte. Quindi, le ipotesi di partenza che facciamo sono queste. Rotore sia fermo e avvolgimenti rotorici aperti. In queste condizioni, il nostro motore asincrono trifase si comporta sostanzialmente come un trasformatore, nel senso che gli avvolgimenti primari sono quelli statorici e gli avvolgimenti del rotore costituiscono gli avvolgimenti secondari della nostra macchina simile al trasformatore. Quindi, nella descrizione del circuito, possiamo partire appunto da una descrizione in cui immaginiamo il nostro motore con un comportamento ideale che possiamo semplicemente rappresentare con il circuito equivalente di un trasformatore ideale. Quindi, questo è il nostro trasformatore ideale. Quello che sappiamo di un trasformatore ideale è che le tensioni indotte sull'avvolgimento primario e le tensioni indotte sull'avvolgimento secondario sono legate tra di loro dal rapporto di trasformazione a vuoto. Nel caso del motore asincrono trifase, noi avremo che la tensione con 1 sarà legata al numero di conduttori attivi della fase e alla frequenza di alimentazione e al flusso del campo magnetico rotante attraverso un coefficiente che dipende da altre particolarità costruttive del motore. Per la corrente al secondario, in questo caso a vuoto, aggiungiamoci un pedice al suo nome e la indichiamo con E con 0,2 per ricordarci che il rotore è fermo. In questo caso, la nostra E con 0,2 ha un'espressione simile alla E con 1 ma dipenderà dalle caratteristiche costruttive del rotore attraverso il coefficiente K2 e dal numero di conduttori attivi per fase del rotore N2. Il legame tra queste due tensioni è quello che definisce il rapporto di trasformazione al rotore fermo o bloccato come il rapporto tra i valori efficaci della tensione indotta al primario, quindi agli avvolgimenti statorici, rispetto alla tensione indotta al secondario, quindi agli avvolgimenti rottorici che sostituendo le espressioni delle due tensioni, dei due valori efficaci, semplificando frequenza e flusso che hanno lo stesso valore per entrambe le tensioni indotte abbiamo questo rapporto e questo è il nostro rapporto di trasformazione nel nostro caso sarebbe meglio dire rotore fermo in quanto il rotore non è tenuto bloccato ma avendo ipotizzato gli avvolgimenti rottorici aperti non ci sono le condizioni affinché il rotore possa ruotare. Avendo definito il rapporto di trasformazione K0 avremo in pratica che se il comportamento del motore fosse ideale a questo punto chiudendo il nostro circuito sulla tensione di alimentazione di fase che possiamo indicare come V1 relativa alla fase 1 il circuito sarebbe di questo tipo se il motore fosse effettivamente ideale avendo qua al secondario sul rotore essendo aperto una corrente I2 ovviamente uguale a 0 avremo che deve essere necessariamente uguale a 0 anche la corrente I1 richiamata sull'avvolgimento primario nella realtà ovviamente il motore non ha un comportamento ideale e assorbirà una corrente dall'alimentazione della fase per consentire la generazione del campo magnetico che accoppia i due circuiti statorico e rottorico e per vincere le perdite nel ferro che caratterizzano il comportamento di un materiale ferromagnetico reale quindi per tenere conto di queste due condizioni è necessario aggiungere al nostro circuito equivalente questi due componenti in parallelo che consentano di tenere conto di queste condizioni reali di funzionamento questi due componenti in parallelo sono una conduttanza solitamente chiamata G0 e una suscettanza solitamente chiamata B0 che tengono conto la prima, la G0 delle perdite nel ferro per isterisi e correnti parassite e la B0 per la corrente di magnetizzazione necessaria a creare appunto il campo magnetico quindi in queste condizioni la corrente che viene assorbita dall'alimentazione in queste condizioni con l'avvolgimento rottorico aperto che possiamo chiamare I0 allora intanto qua abbiamo detto che anche la nostra I1 era uguale a 0 la I0 che viene assorbita in queste condizioni ha due componenti che sono quelle relative ai due rami e che possiamo chiamare la corrente di magnetizzazione Imu che scorre nella suscettanza di magnetizzazione B0 e la corrente che possiamo indicare con Ia anche se sono dei fasori che tiene conto delle perdite nel ferro per isterisi e per correnti parassite in queste condizioni sappiamo che a questo nodo vale la legge di Kirchhoff al nodo appunto abbiamo detto che essendo questa rappresentazione quella di un trasformatore ideale avendo corrente secondaria uguale a 0 anche la corrente nel primario di questo trasformatore ideale sarà uguale a 0 ma non sarà 0 la corrente totale assorbita dal nostro motore perché appunto la possiamo scomporre in due componenti la prima necessaria per vincere le perdite la seconda per la generazione del campo magnetico e per la legge di Kirchhoff al nodo possiamo scrivere che la nostra I0 è data dalla somma vettoriale delle due correnti Ia e della corrente di magnetizzazione Imu in questo modo abbiamo già individuato due componenti che andranno a far parte del circuito equivalente del nostro motore asincrono ancora il circuito equivalente non è completo in quanto non siamo in una condizione di funzionamento normale del motore perché stiamo ipotizzando rotore fermo e avvolgimenti rottorici aperti che non sono quelli del normale funzionamento la determinazione di questi due parametri trasversali G0 e B0 viene fatta mediante la misura la prova vuoto del motore asincrono nella quale il rotore viene lasciato libero di ruotare senza carico quindi a una velocità di rotazione prossima a quella di sincronismo che vedremo essere in una situazione di funzionamento che si avvicina a questo comportamento ideale e che ci consentirà appunto dalle misure effettuate nella prova a vuoto di determinare i parametri trasversali del circuito equivalente si avvicina